Musica Nuovo appuntamento dedicato all'informazione serale, buonasera e ben ritrovati a tutti. Sono lieta di dirvi che oggi ci prendiamo uno spazio per gli amanti della montagna e degli sci invernali. Sono lieta di dire che conosceremo meglio quello che è un bellissimo paesaggio della Val di Scalve. Sono lieta anche di dirvi che non sono da sola in studio, ma do il benvenuto e un buonasera ad Angelo Stabilini, ben ritrovato. Buonasera a voi. Ricordo che è il presidente Sirpa S.p.A., ovvero la società di impianti Colere di Schiarea 2200. E dunque ci dobbiamo trasportare idealmente nella Val di Scalve. Noi adesso racconteremo quello che è il mondo invernale che si può vivere qui. Partiamo però innanzitutto presentando la zona per chi magari non l'avesse mai vista. La Val di Scalve è situata a cavallo tra la provincia di Brescia e la Valle Comunica e l'Alta Val Seriana. È comodissima da raggiungere su tutti gli aspetti perché da Bergamo dice 60 chilometri, da Milano 110 chilometri e poi in più è raggiungibile anche dal Dara Fubuario Terme con la superstrada che arriva da Brescia che va su verso Altonale e dal Dara Fubuario a Corre ci sono 20 chilometri. Dunque si è già sulle piste ottimamente innevate perché noi abbiamo aperto il ponte dell'Immacolata, gli impianti alti e per fortuna noi prendiamo neve dai 1.800 ai 2.250 e abbiamo avuto un buon flusso di gente. Quindi come inizio di stagione siete soddisfatti? Sì, se c'è la neve fino in fondo meglio, comunque giù abbiamo anche i cannoni e possiamo anche sparare la neve. Comunque abbiamo capito dai primi elementi che ci ha dato che comunque si tratta di una zona molto ben fornita, molto ben raggiungibile, ha detto soli 60 chilometri da Bergamo, quindi anche è importante sottolineare come si accomoda se qualcuno utilizza l'aeroporto di Orio a Serio. Di Orio a Serio, esatto. Vogliamo anche parlare un po' del resort sciistico di Colere? Ma non saprei neanche come definire Colere perché diciamo che è una piccola grande istanzione perché dico piccola perché abbiamo due seggiovie doppie, una seggiovia tripla, due ski lift e un altro per la scuola. Però oserei dire grande perché noi abbiamo un dislivello di 1.200 metri. Partiamo da 2.250 che è su al Ferrantino in cima e scendiamo fino a 1.050 che è il paese. Dunque la pista più lunga è 7 chilometri e 500 metri. Che è una bella lunghezza. Con 1.200 metri di dislivello. Dunque chi vuole può venire su a vedere e sfogarsi perché poi abbiamo tre piste alte che sono stupende, che quelle partono da 2.250 e poi convergono a 1.500 e anche quelle sono lunghe 5 chilometri. Lei ha fatto un primo invito a tutti gli appassionati che io so si stanno muovendo in questo periodo perché con la stagione iniziata so che tutti stanno cercando le informazioni magari per le stazioni scistiche vicino a noi. Voglio ricordare subito che ci sono due siti internet che io intanto darei così la gente può segnarseli e io e lei dopo andiamo avanti a parlare www.colereski.it oppure si possono trovare informazioni anche su www.turismo.bergamo.it Diamo qualche dato sul comprensorio. Intanto abbiamo svelato che la pista più lunga è di 7 chilometri e passa. Qualche altro dato? Noi per quattro volte abbiamo ospitato i campionati italiani assoluti di discesa libera e supergigante. È un campionato mondiale sempre di discesa libera e supergigante, giovani. E questo è un motivo di orgoglio? È un motivo ad orgoglio perché abbiamo i dislivelli. In provincia di Bergamo siamo l'unica stazione che abbiamo le piste omologate per supergigante e discesa libera per tali manifestazioni. Poi ci sono in Vattellina. Comunque noi siamo privilegiati anche per questo. Non avete però solo questo fiore all'occhiello, avete anche, e sto parlando sempre della stazione di Colere, uno snow park. Abbiamo uno snow park, sì, però gli snowboardisti giovani preferiscono, come nessuno, il nostro compensorio naturale, si chiama il famoso mare in burrasca che è tutto pieno di gobbe, fanno tutti i fuori pista lì e si divertono. Quindi è uno snow park naturale. Abbiamo anche lo snow park artificiale, però quello, come tutti, è cortino. Lì partono da 2 a 2,50, arrivano giù a 1.600 sempre, saltando. E beh, insomma, non è una cosa da poco, non tutti possono vantare una morfologia simile del territorio, quindi è sicuramente un valore aggiunto della vostra stazione. Un valore aggiunto è il paradiso degli snowboardisti, ecco, diciamo, perché il 70% è su quelle tavole. E quindi? Quindi anche lei possiamo trovare un trend, nel senso, ci sono più snowboardisti che sciatori, da voi? Sì. È il paradiso dello snowboardista. E chi lo sa è sempre su, poi se qualcuno non ci crede, deve solo venire su a visitarci che si rende conto di prima persona. E si bisogna vedere con i propri occhi, a un certo punto. Noi raccontiamo tante cose, ma l'invito è sempre quello di muoversi e vedere e toccare con mano quello che fa. Con mano, esatto. Dicevamo, Collere è l'unica stazione abilitata per le gare internazionali. So che fate molti eventi comunque in questa stazione sciistica, ci sono tanti eventi e manifestazioni nel periodo che arriva. Ma quest'anno ne facciamo pochi perché dobbiamo privilegiare anche l'utenza. Cioè perché abbiamo su tre piste alte che sono favolose e quando ci sono questi eventi che portano gente lì senz'altro. È tutto, però dobbiamo chiudere una pista. E ne abbiamo tre bellissime e chiuderne una poi, ecco l'utente si arrabbia un pochino. E allora dovete fare una via di mezzo. E allora dobbiamo fare, se ci sono in settimana, sì ecco benvengono, ma durante il sabato e la domenica effettivi l'utente che paga il biglietto pieno ha ragione anche di lamentarsi. Ok, quindi trovate un giusto compromesso diciamo tra lo spettacolo e comunque la soddisfazione della clientela che magari proprio nel fine settimana trova il periodo privilegiato per raggiungervi. L'offerta del vostro territorio è a 360 gradi, comunque anche per dei piccoli weekend per le famiglie. Parliamo di questo, anche se ci sono delle promozioni, delle novità, perché sappiamo che spesso in inverno si muovono per il fine settimana famiglie con dei bambini, cercano di trovare qualcosa di conveniente, voi come vi organizzate? Ma io adesso qua, diciamo, delle promozioni che hanno mandato i nostri albergatori su perché purtroppo non sono potuti, come dire, se volete ecco ve le leggo perché io esola dal mio campo, però ambasciatore non porta appena. Beh, possiamo fare un esempio a campione volentieri per dare la voce. Abbiamo su tre strutture che sono nostre, che le abbiamo affittate a dei gestori, uno è l'albergo Plan del Sole che è a 1550 metri di quota, questo è circa un certo posto di letto, sono tutte a camera di combagno, camera doppia, tripla o quadrupla. Poi abbiamo un'altra struttura su a 2100 metri che è il rifugio Cimabianca, quello è su a 2100, quello ha sei camere con bagno, poi ne abbiamo su una più alta a 2250 che è il rifugio dell'Aquila, questa è solo tre camere e tre bagno, insomma. Per tutte le quattro comunque, ma tutte le quattro. Sono sempre, poi ci sono i diversi prezzi, ognuno, se vanno lì su un altro sito, trovano tutto e si informano. Intanto abbiamo visto un po' quelle che sono le altitudini, quelle che sono le possibilità a distanza che si possono trovare, però i siti che voi leggete sul nostro schermo valgono anche per cercare quelle informazioni. Invece per quanto riguarda la giornata sulla neve, per lo Schipass come vi regolate? Per lo Schipass noi facciamo il festivo e i prefestivoli 30 euro e il feriale 22 euro, poi ci sono sempre i gruppi per la scuola che hanno sconti speciali perché se arriva il Puma, non so, con 9 o 10 euro non sia, insomma. Ecco, se arrivano su, anche le scuole si devono facilitare, insomma. Poi anche con le settimane bianche, che l'albergo Prandesole è sempre pieno, 80 o 100 e sono su. Poi fanno perché adesso, ecco, le settimane bianche si accorciano, perché non sono più sette giorni, ma sono tre, quattro o cinque giorni. Weekend bianchi, più facile. Poi ecco, fanno l'weekend sia nelle tre strutture che offriamo il giorno, due giorni lì, di sì, arrivano a sabato, a sabato, con due giorni a Schipass, con 95 mila, scusi, con 95 euro, c'è il pacchetto lì completo. Due giorni a Schipass e una giornata intera in albergo. Comunque... Se fanno tre giorni sono 160 euro. Eh sì. Venerdì, sabato e domenica, cioè ci sono... Vi siete organizzati per dare tante possibilità. E questa scelta funziona perché sono sempre pieni, ecco, tutti e tre, chi vuole venire su a provare si porti avanti perché prenotano... Perché poi vanno via i posti, dopo non ce ne sono più. Sì, magari vanno a settimane, però generalmente sono sempre pieni. E allora, visto che la stagione è appena iniziata e insomma sembra essere partita con il piede giusto, noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo comunque per quella che sarà a venire. L'invito l'abbiamo fatto, tutte le informazioni su www.colereski.it oppure www.turismobergamo.it. La ringrazio tanto, presidente. Grazie a voi per l'invito. La ringrazio a Angelo Stabilini, presidente Sirpa S.p.A., che è stato in studio con noi. E grazie anche a Turismo Bergamo che ci ha invitato gentilmente. Lo salutiamo anche noi, lo ringraziamo e ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito. Grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Grazie a tutti.